Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePad17 e oggi vi do il benvenuto su Darwin Project Benvenuti ragazzi su questo titolo in accesso anticipato Che potete scaricare gratuitamente da Steam Dato che da un po' di tempo mi state chiedendo di portare qualche video Dedicato a Fortnite sul canale Io ho deciso di darvi ascolto e portare Darwin Project No ho deciso di portarvelo perché lo stanno portando pochissimi in Italia E' un titolo molto molto divertente Graficamente simile a Fortnite ma diverso da Fortnite Per quanto riguarda Fortnite potrei farci un pensierino E magari portare un altro video Dato che già una volta avevo realizzato un video di Fortnite Però è tutto da vedere Questo invece mi piacerebbe portarlo almeno una volta a settimana Magari durante il weekend Perché comunque questi titoli essendo online Dove ci sono tanti giocatori forti Diciamo che o si giocano con continuità Oppure ragazzi scordatevi di portare a casa i vari match Allora per il momento il titolo è completamente in inglese Gli sviluppatori lo stanno ancora sviluppando Non è possibile utilizzare il pad Infatti questa è una cosa che mi fa storcere abbastanza il naso Perché non sono abituato a utilizzare la tastiera Comunque ci proveremo Per il momento sono di livello basso Quindi per il momento sarà molto molto difficile Portare a casa Qualche match Non impossibile però Perché a differenza di Fortnite Non ci saranno 100 giocatori Sulla mappa di gioco Ma saremo solamente in 10 Vi ricordate Hunger Games? Ecco più o meno è la stessa cosa Graficamente è simile a Fortnite Ma assomiglia di più ad Hunger Games Ci saranno 10 giocatori Naturalmente per vincere dovremo eliminarli tutti quanti Ci sarà un undicesimo giocatore Che praticamente si occuperà di dirigere il gioco E potrà aiutare oppure disturbare i vari giocatori sul campo di battaglia Tutte queste cose le vedrete durante i due o tre match che giocherò Adesso vediamo un attimo quanto riuscirò a sopravvivere in ogni match Direi di iniziare subito Se sentirete altre voci È perché è possibile utilizzare la chat di gioco E quindi magari gli altri giocatori le utilizzeranno Probabilmente saranno giocatori stranieri Speriamo di giocare dei bei match Ok ragazzi come potete vedere è possibile giocare da soli contro altri 9 giocatori In coppia con un amico contro altri 4 team Oppure a livello 10 È possibile sbloccare diciamo la modalità regista E quindi sarete voi a decidere chi aiutare o chi mettere in difficoltà Per diciamo livellare il match E fare in modo che tutti abbiano le stesse chance di vittoria Per questo episodio direi di selezionare solo Ok ragazzi eccoci qua Questo è il nostro personaggio Questa è la lobby pre partita Dove ci sono anche gli altri giocatori Ho mutato il microfono Adesso poi durante i match vi spiegherò il tutto Abbiamo un'asce in mano che ci permetterà di recuperare la legna E il tessuto Per creare oggetti di gioco Adesso mi stanno bombardando Ok I giocatori lì in alto siamo noi E si inizia Eccoci qua Allora partiamo con raccattare un po' di legna Dovremo sopravvivere al freddo Ma anche Creare degli oggetti che ci aiuteranno a sconfiggere gli altri giocatori E a sopravvivere E a sopravvivere Alla partita Ok vedete Tutti questi oggetti qua Possiamo realizzarli recuperando materiali Allora intanto vado a raccattare un po' di legna C'è la possibilità di sapere dove si trovano gli altri giocatori Però bisogna raggiungere un accampamento La barra rossa è quella della vita La barra blu è quella del freddo E poi abbiamo la stamina Mi sa che qualcuno è già morto Uh qui c'è una poltrona Da cui possiamo recuperare Mu è morto Ok da quella poltrona ho recuperato del tessuto Naturalmente i nostri avversari possono Tracciare i nostri movimenti E quindi seguirci Per esempio adesso tagliando questa pianta Io lascio una traccia Se qualcuno passa in questa zona qua Può tranquillamente tracciarmi E provare a seguirmi Uh là c'è Ah no Ok quello là non mi serve Mi sembra che non ci sia danno da caduta eh Da quel che mi ricordo Mi sa che ne è morto un altro Ma qui c'è una baita Mezza innevata Kiss è morta Quindi siamo già rimasti Le partite sono velocissime Siamo già rimasti in otto eh Ok naturalmente I pezzi elettronici servono per creare Oggetti potenti Tipo le torrette E cose del genere Allora io mi nascondo Dentro la pianta E Cominciamo a produrre roba Ok così Ci proteggiamo dal freddo Magari Anche qualche freccia Palle di neve Che possiamo lanciare Contro i nostri avversari Ok Allora procediamo da questa parte di qua Ok allora qui c'è una casa E dentro la casa Vedete c'è la mappa Uh attenzione Aia 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 Ok me la do a gambe No Eh mi ha ucciso Parabellum Ve l'ho detto ragazzi C'è gente Tosta C'è gente Tosta Ok diamo un'occhiata Intanto stiamo salendo di livello Vediamo cos'è che aveva La G Eh lui era già un po' più attrezzato Rispetto a noi Aveva già anche l'armatura Guardate Aveva già creato anche l'armatura Vabbè passiamo al prossimo match Purtroppo non ho combinato Quasi niente Questo comunque ragazzi È il primo episodio Fidatevi che se Continuerò a Portarvi questo titolo sul canale Comunque Diventerò molto più forte E quindi Magari riusciremo a vincere Anche qualche partita Non potete pretendere Che vinca già subito Il primo match Questo forse è tipo Il quarto o il quinto Che gioco Qualcosina ho imparato Però sono ancora lontano Dal poter dire Di essere forte Su Darwin Project Allora Passiamo al secondo match Di oggi Ok ragazzi Si parte Siamo finiti Su un server Europeo Con Praticamente 9 giocatori Su 10 tedeschi O austriaci Adesso vediamo Se riusciamo a batterli Ok Sky Vector È stato scelto Come Giocatore favorito Per questo match Dal regista Allora Nascondiamoci qua dentro Per l'armatura Mi servono Altre due poltrone Come avete comunque Potuto vedere È tosto E Sì Voi mi chiedete Sempre fortnite Però ragazzi Sul mio canale Mi piace portarvi Anche Roba che Non fa Nessuno O fanno in pochi Su youtube Allora Vediamo dove possiamo andare Magari Magari non è morto Però è stato ferito Da qualche nemico No è morto Caspita sono Ste poltrone Ce n'è una la Ma è troppo Ah Eccola la Ok Vedete il regista Dato Amorro Del Del legno Mi serve ancora una poltrona Devo riuscire a trovarla Questi guardate No Non voglio utilizzarli Però se li colpite Praticamente vi fanno rimbalzare Da un'altra parte Vi fanno fare tipo Un salto di 200 300 metri Ok Allora Gli omini blu Indicano quanti giocatori Ci sono ancora Il teschio rosso Quanti Giocatori ho ucciso Adesso vi faccio vedere una cosa Guardate Qualcun altro è morto Allora Possiamo investigare Adesso sappiamo che Trocob è là Possiamo andarlo a prendere Vedete Per Un piccolo periodo di tempo Ci indicano dov'è Ehm A me serviva però Un'altra poltrona Vediamo Mi faccio anche Una freccia Ok Qui ho mollato Della roba I cervi Vi permettono di ottenere Dei pezzi elettronici Devo craftare un fuoco Ecco una poltrona E quello che avete visto Prima sulla sinistra Serve praticamente Per spostarsi In un'altra area Della mappa Allora Un fuoco L'armatura Ok Poi devo recuperare Della legna Ok Ancora un paio di secondi Poi ci spostiamo Ah Naturalmente Le Sette aree Dopo un po' di tempo Cominciano a chiudersi E quindi diventano Inaccessibili Chi è dentro Viene automaticamente Eliminato dal gioco Allora Vediamo Qualcun altro è morto Io sono In una zona Dove non c'è nessuno Ottimo Vedete l'arena centrale Tra 50 secondi Si chiude Qui c'è qualcosa Attenzione però Anche se non c'è il danno Da caduta Bisogna stare attenti Sperando che nessuno Vada A recuperarlo Io intanto mi preparo Delle frecce Vado a recuperare Questo Cherry Pie è morto Ok via Abbiamo trovato Un pezzo elettronico Allora Possiamo produrre Un energy shield Ok Che posso attivare In un duello Magari con qualcuno Mi serve Della legna Qui c'è un altro Cervo Ottimo Ce n'è un altro Anche la Però intanto Recuperiamo Questo Ok Ottimo Ho recuperato Anche le frecce Speed drink Trocob È morto Siamo rimasti In Cinque Ok In quest'area Non c'è nessuno Io di solito Anche su fortnite Evito gli scontri E vedete Sono ad esempio Adesso in una zona A rischio Piuttosto che Spostarmi Dall'altra parte Mi conviene andare Verso sinistra Che siamo vicini Alla All'altra zona Perché chiudono Le aree di gioco Perché in questo modo Avvicinano i giocatori Ed è più facile Incontrarsi Dai che siamo quasi Siamo quasi fuori Devo anche sbrigarmi Che sto morendo di freddo Prendo ancora questo Et voilà Ok siamo abbastanza Al sicuro Runner Vai Ok Riscaldiamoci un attimo Possiamo procedere Lo speed drink Magari posso Utilizzarlo Se devo scappare Tanto se qualcuno Vi traccia Ve lo dicono Qui non c'è niente Qui è passato qualcuno Si trova Si trova là E' in un'altra zona E' in un'altra zona Adesso me lo farà vedere ancora per qualche secondo E poi sparirà E poi sparirà Comunque adesso sappiamo più o meno dov'è Qui c'è una poltrona Possiamo Possiamo Creare qualche freccia Aumentiamo la velocità Creando Degli scarponi Migliori Sono stato tracciato Devo sbrigarmi Sono stato tracciato Ok l'effetto della bibita è Scomparso Io adesso voglio solo uscire di qua Allora anche se non ho killato nessuno Comunque Non sto giocando male sta partita Abbiamo quasi raggiunto il confine dell'area Uh questo 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 Ok vedete mi hanno dato Ci sono anche delle casse che ti danno Degli oggetti C'è una poltrona qua Appena in tempo Appena in tempo Allora mi preparo Altri scarponi Per migliorare ancora la velocità E poi abbiamo bisogno di legna Qui qualcuno che È sempre il solito Si trova Là in mezzo È sempre lui Hi Si è sempre lui Ci sta pure parlando Ok nobody's next to me Lo vediamo Lo vediamo Sa che lo stiamo tracciando Comunque Siamo rimasti in cinque No Mi sono avvicinato troppo e scappato via Peccato Potevamo ottenere qualche altro oggetto Diamo un'occhiata Allora Si stanno spostando Di là Oh attenzione Non ho legna Devo andare a recuperare C'è un pezzo qua Poi naturalmente nei commenti fatemi sapere Cosa ne pensate Se anche voi state giocando a questo titolo Se lo conoscevate Non ho capito cosa vuol dire Allora sono tutti Distanti Allora intanto Butta giù questo Palle di neve Non so quanto mi potranno tornare utili Però visto che sono gratis Faccio che Produrle Ok muoviamoci Uh temporale Qui E thriller Si ma sono tutti A chilometri di distanza Sapete cosa Mi conviene Andargli incontro Perché Il regista Potrebbe decidere Ah vedete In quest'area Ha modificato La gravità Non mi conviene saltare Ha modificato la gravità Il regista Pazzesco Ok Zona nord est Si sta chiudendo Quindi torneranno Da questa parte di qua Mi conviene Prepararmi Alla battaglia Vorrei preparare Qualche frecce in più Più che altro Sono qua in zona Sono qua in zona Aia Mi ha fatto volare per un chilometro e mezzo Vediamo se lo vedo Ci detti Mi ha fatto parecchio male Mi ha fatto parecchio male Eccolo Oh C'è andata di lusso C'è andata di lusso ragazzi Ho forse anche Sprecato lo scudo Ok guardate Miglioriamo l'ascia Mi creo altre frecce E miglioriamo Gli scarponi Ancora Ok Allora Siamo rimasti in 4 Potrei tornare indietro Sapete Così vado a recuperare quello Così vado a recuperare quello Ok Tra 14 secondi Forse posso utilizzare di nuovo Lo scudo No Devo scappare Qui il regista me l'ha giocata E' stato cattivo Ok Sono al sicuro Perfetto Chi caspita è sto qua Devo sbrigarmi Non ho legna Accidenti Ah ma c'è qualcuno qua C'è qualcuno Ah Proviamo a scendere di qua Ok meno male che gli hanno Bloccato il microfono Sto cercando di capire Oh Guarda Si vabbè che mira c'ha Oh Ce l'abbiamo fatta Ma è andata di lusso ragazzi Due kill No Vieni qua Eh ma c'è gente forte C'è gente forte Comunque siamo Non è andata male Questa me la prendo Ascia Frecce Ascia Qui mi serve per migliorare la stamina E gli scarponi Accidenti Devo sbrigarmi Accidenti Vieni qua Eh vince lui Vince lui Perché No Cacchio ha fatto Una trappola Eh no Vabbè ragazzi Però così non vale Fatemi uscire Eh ma ve l'ho detto Abbiamo beccato gente tosta Abbiamo beccato gente tosta Sono incastrato Sono incastrato Non riesco a uscire Non riesco a uscire Sinceramente Non riesco a uscire Oh ce l'ho fatta È tosta È tosta È tosta È tosta 3 2 1 Nooo Sono stato ucciso Da Sky Vector Vabbè Finita così Comunque siamo arrivati terzi Eh siamo arrivati terzi Non male Qui è finita No se la stanno ancora giocando Eh purtroppo Mi ha fregato l'inesperienza Sennò magari potevamo combinare Ancora qualcosina di più Però non è andata male Comunque finire Oh grande Killer Non è andata male Comunque dicevo Due kill E siamo arrivati terzi Bella partita Bella partita Nella top 4 Sono quello che ha fatto Meno danni Va bene ragazzi Eccoci tornati Nel menu principale Di Darwin Project Andiamo a vedere Che cosa C'è dentro questo pacchetto Ah Vedete Dei pantaloni Perché infatti Possiamo personalizzare Nella dressing room Il nostro personaggio Vedete Potete personalizzarlo Come preferite Allora Come vi dicevo Prima Non è andata male Su due partite In una siamo arrivati Se non sbaglio Sesti Nell'altra Addirittura sul podio Con due kill Non mi sarei mai aspettato Di riuscire a fare addirittura Due kill Dopo così poche partite Su Darwin Project Vi dico Ne avrò giocate in totale Sei o sette Spero ragazzi Che questo video Vi sia piaciuto Abbiamo anche raggiunto Il livello 3 Fantastico Se vi può interessare Mi piacerebbe portarlo Almeno una volta a settimana Magari durante il weekend Dei video magari Medio lunghi Come se fossero Delle live Diciamo E poi magari potrei anche Portarvi Però vi dico È tutto da vedere Anche Un video Di Fortnite Nel frattempo Nel frattempo Comunque ragazzi Concentrate la vostra Attenzione Su questo titolo Vi ricordo che potete Scaricarlo gratuitamente Da Steam Per il vostro PC Speriamo poi Esca anche magari Su console E come sempre Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su Darwin Project Alla prossima ragazzi Iscrivetevi al canale